Una vittoria importante in un momento difficile del Molfetta dove ci aspettavamo una squadra combattiva che aveva cambiato allenatore e quindi sicuramente avrebbero dato qualcosina in più. Però siamo stati bravi nonostante siamo andati sotto, la squadra è stata compatta, non si è disunita, è arrivata subito al pareggio ed è stata brava a ribaltarla. Poi con il 3-1 sicuramente abbiamo chiuso la partita anche se abbiamo peccato di superficialità in un paio di situazioni, con palla nostra abbiamo sbagliato diverse uscite in palleggio e loro hanno avuto quelle due occasioni dove è stato bravo il nostro portiere. Siamo partiti bene, il problema psicologico di questi ragazzi è che appena abbiamo preso il gol del pareggio dopo un minuto su un fallo laterale, quindi un gol banale, hanno perso un po' di fiducia. E lì poi abbiamo preso il secondo gol e abbiamo ripreso nel secondo tempo a macinare, abbiamo avuto queste due occasioni ma sono due occasioni tra virgolette sporadiche con la volontà dei ragazzi. Dobbiamo lavorare su quello, dobbiamo lavorare sulla voglia di riscatto e dobbiamo lavorare molto, c'è molto da lavorare perché anche queste partite dobbiamo cercare di portarle a casa, non dico di vincerle ma anche di portarle un risultato positivo a casa.